Siamo nel sottopasso di San Francesco che collega San Francesco a San Giorgio, pieno stracolmo di rifiuti per colpa di incivili che abbandonano situazioni e che creano degrado, come potete vedere dalle immagini che scorrono, siamo riusciti a intervenire in municipio con il supporto, la linea decoro dell'Ama, un intervento importante di igienizzazione e di rimozione ai rifiuti. Abbiamo trovato veramente un quantitativo anche fuori, tra le erbe di rifiuti, già ma ha portato via il primo camion pieno di rifiuti, ora stanno continuando, stiamo facendo un attimo lavoro anche di sparci, ma tutto siamo stati spatti dell'intervento, però ci auguriamo che la civiltà sovrasti perché non è possibile continuamente intervenire. Ecco, questi sono soldi pubblici dei cittadini che stiamo impegnando per garantire il rigoro di questo municipio. Se non ci fossero queste situazioni non spenderemo soldi pubblici.